Guerra dell'acqua tra i consorsi di bonifica di Vasto e Termoli. E' una delle questioni più discusse degli ultimi anni, con l'apertura della diga di Chiauci che doveva servire a rifornire non solo la zona del Vastese e di buona parte del Molise, ma anche quella sulla costa. La situazione doveva tornare alla normalità. E' invece ripresa la guerra dell'acqua tra Abruzzo e Molise, come è stata ribattezzata negli ultimi anni. Questa volta, stando a quanto afferma il presidente del consorzio di bonifica di Termoli, Giorgio Manes, la responsabilità pare ricadere sulla gestione della diga di Chiauci, che rifornisce di acqua i nostri campi e senza dare alcun preavviso al nostro consorzio e agli utenti, ha sospeso l'erogazione dell'acqua a scopo irriguo nei giorni di tornazione spettanti al Molise, ha affermato Manes, che ha anche ricordato che nei mesi scorsi, aderendo ad una sollecitazione della regione Abruzzo e del consorzio Vastese per risolvere i problemi di carenza idrica, si era arrivati a una intesa tra consorsi e le due regioni, che prevedeva un'erogazione basata su turni di tre giorni, in grado di garantire la sopravvivenza delle culture in atto nella zona di Montenero di Bisaccia. In qualità di presidente del consorzio di Bonifica, Trigno e Biferno, continua Manes, devo constatare che l'intesa raggiunta non è stata rispettata né è stata data preventiva comunicazione all'ente, mettendo in grave rischio le colture nella zona di Montenero di Bisaccia.